Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi vi spiego dove trovare questo incandesimo rodi della punizione oppure rovo del castigo Dirigetevi qui alle rovine di Zamor dove stanno questi scheletri che sembrano fuzzicadente, sempre più avanti dirigetevi qua sulle colline Adesso vi spiego dove trovare esattamente questo incandesimo, molto semplice, non dovete neanche uccidere nessuno per averlo, neanche un boss Si trova esattamente sotto un albero, tutto qua, e comunque crea questa scia di catene di spine sanguinanti Quindi è un incandesimo molto efficace e molto utile, quindi vi potrebbe anche servire Eccolo qua, sotto l'albero Quindi ragazzi è un breve video, ormai faccio video brevissimi su come trovare questi incandesimi Così facendo li metto alla collezione nella playlist e siamo arrivati al 71esimo video su Elden Ring E hanno fatto veramente molto tutti questi video Quindi ringrazio quelli che stanno guardando questi video di Elden Ring Lasciate like se il video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, attivando anche la campanellina Io intanto mi diverto un po' con questi, ormai sono livello 255, gioco poco, però è sempre uno spazio giocare a Elden Ring Quindi ragazzi, se il video vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale Noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Elden Ring, quindi ciao!